ma che stai a fa' ricordate che i squali stanno arrivò venga 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 non si può iniziare senza di lei e benvenuti in questa nuova trasmissione grazie Fabiola grazie Fabi mi sa che oggi si spacchietta una sedia perché vedo 6.986 se leggo bene che già sono sudato quindi già buzzo quindi stiamo a posto come state ragazzi tutto bene noi siamo carichissimi quanti gradi fanno nella vostra cittadina qui a Roma tanti mi sa 30 mi sa 42 grazie ragazzi per i sub siamo carichissimi perché 31 siamo carichissimi perché sono usciti i biglietti per il party del Cerbero il Cerbero Party 10 luglio ore ecco mazza subito pronto proprio punto esclamativo party in chat punto esclamativo party per tutte le info ore 20 cosa sarà questo Cerbero Party beh è il Cerbero Podcast dal vivo su un palco a Largo Venue privato 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 non in live e non bannabile di conseguenza quindi si possono dire un sacco di cose carine esatto ci saranno tutti i personaggi tutti insomma la maggior parte dei personaggi della Cerbero Lore oltre a noi quello che vedrete voi da sotto il palco sarà esattamente questo una puntata del Cerbero Podcast sì purtroppo non abbiamo ascoltato i consigli del big perché abbiamo messo i biglietti a 18 euro lui ci aveva consigliato 40 eh sì l'abbiamo fatto la cosa opposta sì però ci sono volendo i VIP passi i privatoni esatto ci sono 50 biglietti early access solo 50 solo 50 saranno già finiti allora è inutile pure che lo diciamo però vabbè se cliccate sul link oltre al biglietto normale c'è pure quello early access cosa significa potrete accedere prima all'evento e romperci coglioni cioè essenzialmente questo è entrare nel backstage video insieme backstage insieme sarete presenti nel backstage con la regia di Marco Chitano attore alle 18 e 30 l'evento invece per i poveri sì alle ore 20 20 beh comunque ragazzi 18 euro prezzo pensato pensato per essere accessibile alla maggior parte delle persone se no sarebbe stato veramente tosto magari soprattutto per chi viene da fuori Roma certo ci sarà quindi questa puntata e ovviamente alla fine della stessa DJ set con Dave per sbocciare assieme esatto poi ci sarà quello che viene proprio chiamato il party esatto dove ci ubriacheremo sborreremo sui fan ci sarà il delirio privato festa privata con il cerbero e le persone del cebero universe bravi ma avete ricordato una cosa importantissima dobbiamo contattare la CIA per evitare un'altra multa assolutamente sì comunque punto esclamativo party se volete prendere i biglietti istantaneamente anche perché io credo che a breve finiranno ti dicono in chat 18 è pure poco ma infatti ragazzi ci hanno scritto i nostri collaboratori hanno detto che i biglietti a 50 euro già se li sta succhiando qualcuno e poi ripetiamo sono solo 50 e in più vabbè quelli a 18 euro non finiranno entro oggi perché sono centinaia anche quelli però sono finiti hanno un numero finito sì sono 550 e 50 privatoni non fate bagare in altro li venete a di più capito sono 550 i biglietti da 18 euro e 50 quelli VIP esatto e grazie Kevin grazie Kevin meno 4 meno 4 li ho già presi Arlock eccoci qui 7.1 è il momento della sedia la comodità di tutti sei contento Simo? così te metti il corseggiolino il biglietto VIP mi dice che l'ingresso è alle 20 sì sì guarda te lo stiamo dicendo in questo momento chiunque prende il biglietto VIP può venire alle 18 e 30 poi magari lo facciamo specificare anche sul sito alle 18 e 30 esibite il VIP pass e potete venire nel backstage durante la preparazione del tutto e cazzeggiare con noi in attesa dell'evento grazie per l'abbonamento ok momento sedia come non si può ebbè non può te spacca la macchina di Marco la macchina perché in aria ci attira sopra c'è la macchina c'è la macchina stiamo via tutti stiamo stiamo siamo sene tutti Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. in camera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Blur. Grazie a tutti. negativo. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. è andata. grazie a tutti. 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 durante tutta la visione, è un meme già in America, già esistono non paragoniamo la merda col cioccolato, poi The Room in realtà quello principale, fantastico, preoccupante che sia andato bene scusa, scusa, cosa fai nella vita per avere studio, dove studi? sono in ritardo, fantastico, in bocca al lupo scusi, cosa fai nella vita per avere uno scooter così di merda? fantastico, ok, va bene, oddio non mi riesco a vedere con Casa Pound dietro Marco, ma che stavi a fare? ma che stavi a fare poi Marco, che rito con tutte le bandiere sapevate che in un episodio della Mielevisione Fatalina viene abusata da un uomo e viene raccontato una cosa gravissima, cosa? io questa cosa non me la ricordo minimamente la povera Fatalina arrivo eh, ecco qua, sto travasando la spumosa è così fresca e spumeggiante sembra proprio voglia uscire dalla bottiglia con un dito a forma di pene due mani già sta voce fuoricampo de coso o Milo Cotonio o Tonio Cartonio mi sembra montata su anche a me sembra giunta dopo, sì quindi, pure questa non musica, questo silenzio, non è andato in onda così eh, magari proprio per farlo forse, non so, per renderlo più inquietante per rendere un momento più inquietante, però non è andato in onda questo dicono che non è montata, è l'originale è così, cioè questa scena è tutta così silenziosa o quello che fa riferimento alla sborda esatto, con Tonio Cartonio nel sottofondo che se sente, se sente, ma che è? non verrebbe mai approvata una cosa del genere, ma che cazzo è? è magari uno spazio io non me la ricordo spesso c'è tra l'altro questa è una cosa per sensibilizzare stop vediamo ah, sono due mani sono due mani no, non sono dieci peni a me sembrava una mano dieci peni poi, diciamo, si è resa conto che l'aveva fatta del merda allora ha cominciato a cambiare invece no, sono due mani con un pene però allora ragazzi, è la scena originale se no, rispondete al sondaggio in chat qualora sia originale, per questi motivi che ho detto è stranissimo che sia andato in onda alla RAI dove cazzo era, in un programma per bambini rende il tutto ancora più inquietante guardiamo però abbiamo visto solo 30 secondi, magari moriva lui certe volte ma non c'è la musica, è stranissimo sì, quello sì ecco qua ecco ora staggerai una spumosa fatalina che non te la dimenticherai più per... ah, lui stava in cantina l'hai fatto tu questo disegno? sono delle mani molto grandi minacciose hai paura che scoppi una guerra qui nel fantabosco? hai assistito ad un litigio? vieni con me la cosa è gravissima poi vogliamo tutti bene alla fata quindi l'abbiamo completamente rimossa sta cosa tristissimo no io non l'ho mai vista credo che me la ricorderai cioè è assurda sta scena ma pure nel corso di tutti questi anni con tutti i ricaricamenti su youtube freebooting cose interessanti H2TV lato oscuro della tv tutte queste cose qua non è mai ricicciata fuori sta clip se non ora forse non l'abbiamo vista noi anni fa era ricicciata fuori tipo l'addio di Tonio Cartonio mi ricordo su facebook andava tantissimo dell'ultima puntata della melevisione un sacco di visualizzazioni gente che guardava con nostalgia l'interruzione per crollo dei torri gemelle pure era famosa anche quello hanno interrotto esatto questo mai è la prima volta che lo vedo e mi sta stupendo devo farti sentire una cosa allora intanto qui la spumosa e adesso cerchiamo il quadernetto eccolo qua ascolta ho nascosto quella cosa in fondo a me lo voluce lì dietro regà greve ma che sta a fare la tutta insinua è lo stupratore no è lui l'abusatore secondo me pure se sono cattivi sono preoccupati la diretta veramente Lynch sta puntata comunque questa cosa è andata in onda per i bambini vabbè però si era fatta apposta per sensibilizzare per parlare della violenza dell'abuso stupro lucio però è proprio cupo rispetto alle altre scene è molto però io apprezzo l'ho sempre detto apprezzo anche la crudezza nei contenuti per bambini ma ci sta ben gestita però questi programmi in realtà erano sempre supervisionati erano ben gestiti da psicologi e pure per fatte capire che magari con disegno poi chiede aiuto e vedo pure per quello magari i bambini che hanno una situazione simile spesso viene fatto con i disegni ora viene fatto pure con i gesti tipo questo non mi ricordo com'era il gesto di aiuto internazionale ah ok questo internazionale di aiuto no io dicevo di voi bambini che fanno dei disegni anche involontari e si evince magari una situazione familiare particolare a seconda della grandezza dei personaggi dei colori ci sono proprio degli studi interessanti è così quella mi sa che è potere nero pollice black power o così giusto così no è una cosa seria per i bambini si insegna ai bambini vittime di abuso non so per andare a chiedere aiuto questo invece è grazie per la sab utilissimo si utilissimo quattro volte apri e chiudi quindi così col pollice dentro ah col pollice dentro che significa significa cioè viene insegnato ai bambini per dire stanno abusando di me beh io a mio figlio inserò insegnerò a fare fb block io penso che succederà che i bambini faranno sto gesto perché se lo imparano e sanno bene che è uno vede un bambino che cammina a fianco a un signore che è il padre il bambino fa così è cruda una pigna rivelarono che questa puntata fu studiata da un team di psicologi ma infatti non ricordavo che era curato bene comunque era fighissimo la revisione era top ascolta ho nascosto quella cosa in fondo a me perché se non la vedo lei ma quanti so ma so più di uno pure lupo lucia pure strega salamandra stupro lucio comunque abbiamo fatto rito stupro lucio sta là ma vedi che sei molto casa salamandra ecco gli insinui questi sono gli insinui che vogliono perseguire il cerbo proprio loro c'è non ne parlo per non essere più triste mago perché se non la dico non esiste ma laggiù in fondo a me nel buio denso anche se non la vedo ci penso e lei beve quel buio come inchiostro e cresce sempre più diventa mostro ma io so cosa i mostri fa paura il sole che taglia in due la notte buia apro la mia finestra a questo sole e apro la mia bocca alle parole ne parlo con la mamma con l'amico tu mi spaventi mostro e io ti dico e tu ti sciogli in un po' di porcheria mi dai un ultimo morso e fuggi via rimane una bella cicatrice dove c'è scritto mostro morte uomo dice è così è proprio così io ho nascosto quella cosa in fondo a me apro la mia finestra a questo sole apro la mia bocca alle parole no Tonio che vergogna nessuna vergogna con un grande amico allora Fatalino adesso mi racconti tutto ero vicino al castello di Re Quercia oggi quando quando mi dirigevo verso la sorgente e ho incontrato un capitano di Re Quercia era un tipo che io ho visto altre volte ma non gli avevo mai rivolto parola questa volta lui si è fermato e ha iniziato a parlare con me all'inizio lui scherzava però poi dicono che era un alpino comunque porca troia bello tosto pesante pure quella poesia mi ha emozionato devo dire bella immagino forse da bambino neanche l'avrei capita onestamente è costruito bene e adesso ho capito tutto ma da ragazzino non so se avrei capito tutto si bello discorso della vergogna interessante ha detto ovviamente ha ribadito parlane con i genitori con l'amico il mostro è come se se non ne parli non esista ma in realtà esiste dentro di te ti fa stare male quindi se ne parli con i tuoi amici o parenti fai bene top insegnamento assurdo mi colpisce no 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 bellissimo dovrebbe tornare la mia visione e non il ducci ma che è qua connessione annichilita ok no piccolo f piccolo f ragazzi ho finito su una pagina dei fattoni comunque la pagina dei fattoni più grossa di facebook dove cazzo stava tipo io poi fa troppo ride tipo ganja friend 2 milioni e 4 cioè ganja friend vabbè mo l'ho chiuso vaffanculo comunque eh non posso sanandier vabbè comunque io proporrei marco chitano questa pagina comunque sta foto è diventata super virale ma pure un'altra quale nuova sfida dei fattoni vediamo qual è questa sfida new stoner's challenge no prego marco ma che sarà mai vai marco ma si 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 ci ho provato l'altro giorno che era spenta tre quarti d'ora non ci sono riuscito ma sei ciegato un occhio marco sei fiero di me un po si si che sei no pensavo che c'eri riuscito a voi assolutamente ragazzo beh ti la faresti gelù no ma angoio a voi a sostenitore della modifica dopo cavaliere della modifica davide ne abbiamo bisogno tutti scan to unlock ah ok perché quando stai fatto non riesci a accendere specie che amico di marco chitano ne ha bisogno di questo perché ah perché li rubo eh questo si così trippy for twenty avevo capito penso bello che basta che flash che flash raga ma è che avatar lasciamo insieme raga ma è erba si è proprio dentro un tocco d'erba bellissimo un altro link e poi basta niente accendino nessuno con una batteria bravo 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 non c'è non c'aveva un fornello del gas come tutti ok servituti vacchi we love you Gianluca we love you Gianluca we love you Gianluca we love you Gianluca asperi ascoltiamo che è importante ma me la posso mettere come tipo sveglia ah zì pensa che è bello che io mi sveglio la mattina e sento sta cosa è vero cioè pure tu essendo il nostro seo we love you Gianluca bello zì lo registravo noi ok one two three we love you Gianluca che bello vedi pure la risatina ma bello un supporto dalle Filippine comunque sì 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 un supporto Filippine allora sono sicuro che se ora il grande Gianluca Vacchi non glielo auguro però anzi glielo auguro come lui lo augura agli altri di fallire di tipo il video che abbiamo visto ieri no io ti auguro di fallire Gianluca Vacchi citandoti e voglio vedere quest'amore sicuramente rimarranno tutti al tuo fianco perché ti vogliono bene proprio ti amano allora e non è una farsa qua ci serve il C2 di Simone oddio posta di Matt Carus vabbè ci sta scritto ok gli uomini non sono fatti per essere dominanti sono fatti per essere sottomessi dominanti voi siete nati per essere governati erano governati era ma cosa era Thanos Logi nel nel primo Avengers o Mad Max puro lo so io ho citato Avengers o Montanelli o Montemagno aspetta voi siete nati per essere governati lo disse all'inizio cosa hai immaginato Montemagno voi siete fatti per essere sottomessi voi sottomessi voi bramate l'asservimento Montemagno Montemagno è vero Bruce Lee ci sono due statement qui il primo con il quale non sono d'accordo il secondo con il quale non vedo nulla di male il primo ragazzo dice gli uomini devono essere in un certo modo e non nell'altro che già che dici uno deve essere in un certo modo cioè i maschi devono essere in un modo per me stai sbagliando deve no quell'altro dice è ok essere deboli e va bene cioè nel senso che se non sei forte forzuto cioè nel senso non è che sei sbagliato certo però invece questi insieme a Matt Carus mi savo l'ha fatto l'istupio dice no no bisogna essere solo forzi fisicamente tra l'altro infatti pure il primo commento dice cita il meme famoso reject weakness embrace ah ho sbagliato reject weakness embrace masculinity e cose del genere invadono continuamente la mia uomo di youtube e puntualmente li guardo tutti e metto le ac voi che ne pensate cioè questa ovviamente tutto ciò è in risposta a tutto quel movimento diciamo che vuole sdoganare l'uomo anche non mascolino quelli che attaccano anche la mascolinità tossica del maschio bianco etero allora intanto secondo me non vanno confuse alcune cose un conto è la mascolinità tossica un conto è lo stereotipo dell'uomo forte fisicamente virile però che non fate male a nessuno se fai i cazzi suoi per male intendo ovviamente non solo fisico ma anche psicologico e secondo me è da rispettare sia un uomo che si veste in un certo modo oppure che ha uno stile di vita non dedito al deadlift o al bodybuilding però ovviamente non va neanche distrutto il discorso dell'uomo che semplicemente vuole anche essere forte fisicamente ma un uomo è forte ti dico la verità non vedo come abbiamo detto anche nella live con il mio sosia qui parlavano la discriminazione di quelle in canottiera non vedo questo pericolo sono sincero per quanto mi riguarda poi non so la situazione in america e poi ovviamente non sono i muscoli a fare un uomo forte perché magari psicologicamente non ci sta abbiamo visto pure con Calumbo che è gigantesco però poveraccio ha passato tante diciamo diciamo che la concezione dell'uomo forte forzuto mi sa proprio deprimitiva nel senso che un tempo magari avere una grande forma fisica di conferire un vantaggio evolutivo un vantaggio sociale adesso è più una cosa che uno fa per stare bene essere grosso e si può essere forti e qui ci metto anche le donne tutti gli esseri umani se secondo me come me la vivo io Simone Santoro essere forti non significa essere forti fisicamente ma essere forti psicologicamente ormai in questa società in questo presente una persona forte non è quella forzuta è quella proprio forzuta qua sì diciamo che lo sport ti rende forte comunque sì ma ovvio cioè stare in salute fare la fisica no però spesso poi vanno anche di pari passo nel senso che può aiutare anche ovviamente stare in salute non è un classico men sana in corpo e sano non so poi se in America ci siano anche dei movimenti o un certo tipo di pensiero che punta a distruggere anche questa figura stereotipica dell'uomo muscoloso perché secondo qualcuno problematica secondo me è semplicemente un discorso legato all'azione di quella persona ok non alla sua estetica alla sua scelta di vita ovviamente ci sono anche quelli io perché seguo molte pagine bodybuilding canali bodybuilding eccetera che giudicano con disprezzo personaggi come il ragazzo che si è visto prima con quelle unghia questo sarebbe se questo è un uomo no ma ovviamente è una cazzata poi vorrei capire in questo embrace masculinity quelli che appunto abbracciano la mascolinità cosa intendono per mascolinità cioè quali qualità della mascolinità bisognerebbe abbracciare e quindi solo se si è uomo bisognerebbe abbracciare queste qualità perché non inseriamo le donne in cioè le donne che cosa dovrebbero abbracciare per essere forti in questo mondo non possono abbracciare la mascolinità ma anche loro possono tranquillamente essere persone forti non so se mi spiego quindi è per questo che questa cosa la mascolinità mi fa acqua da tutte le parti perché io rifletto includendo anche le donne essenzialmente sai che io non riesco più a dare una definizione attuale ai termini femminilità mascolinità virilità sì giusto ormai li trovo dei termini vuoti sì non servono più a niente mentre voi parlavate di tutto questo io stavo un attimo come posso di pensare a come viene visto adesso che ne so il bel ragazzo e vedo tutte quante persone estremamente lontane a sti questi gorilla vabbè ma non si parlava di bellezza ma no ma beh oddio era di forza non so sì però proprio mi viene in mente da mi hanno dei maneskin con l'ombelico dei fori mi viene in mente ma molto per senso non mi viene in mente il tizio palestrato come magari era anche banalmente dieci anni fa ha cambiato il canone di bellezza sì anche quindi secondo me questa qua è una cosa che incide molto sul discorso soprattutto perché come stava di Simone ormai non è più legata al fisico ma tanto specie nei social alla persona stessa e di conseguenza alla personalità sì quello che diciamo mo' della femminilità e mascolinità poi il canone si avvicina di più a una cosa che si allontana secondo me dal gorillone dal palestrato da quello che ormai sono riuscito a capire ragionando poi magari mi sbaglio pure femminilità e mascolinità sono stati spesso e volentieri utilizzati per descrivere degli attributi più presenti nelle personalità dei maschi e in quelle delle femmine ad esempio una qualità un'infermierina molto a servizio servile dirà questo è proprio femminile cioè ha quelle doti di empatia di mamma chioccia viene spesso associato alla femminilità ma questo non vuol dire che un uomo che possiede quelle qualità lì di stare al servizio di essere un infermierino un infermiere appunto di essere nurturing non so come dirlo sia femminile semplicemente ha quelle qualità lì che sono state associate di più alle donne perché sono più presenti nelle donne ma non si deve sentire sbagliato quell'uomo lì che anche se in percentuale minore nel suo sesso ha quelle qualità allora in qualche modo non è appartenente al suo genere non è mascolino sono più presenti nelle donne dovemo capire per la società nel corso degli anni o perché è una cosa genetica allo stesso tempo che la mascolinità magari è un discorso di ambizione di aggressività di severità sono stati sempre più leadership associati agli uomini questo non significa che una donna che ha queste qualità non è femminile basta è stata associata a dei tratti caratteriali un po' più presenti in un genere che in un altro ma adesso basta sì anche magari all'estetica quindi un femmineo era magari il classico stereotipo del gay degli anni 80 ok però anche oggi a parte il fatto che ci sono anche stereotipicamente l'opposto quindi negli anni 80-90 c'erano anche i gay super virili muscolosissimi io mi ricordo però parliamo sempre di stereotipi e cose che in realtà forse noi abbiamo creduto vere sì io mi ricordo l'Ibe del Cerbero del 2018 dove dicevamo sempre Simone tu hai una mente più femminile perché parlavamo di sesso parlavamo di come a me approccio alle relazioni ma che caccia no è una frase stupida poi io sono fatto così sono fatto in un certo modo ho i miei gusti che non è che sono femminili sono io come me ce ne stanno tanti altri sì anche noi ovviamente eravamo legati a quel termine quei termini lì ma non lo so non vedo più una una sincera valenza me stessi non vedo dovremmo capire quanto fa male pure all'uomo sto ragionamento che devi essere forte quella è la mascarinità tossica però pure il fatto che lui pure come ha messo il video cioè nel senso l'uomo non deve essere debole o deve essere forte e mette quelli forti Bruce Lee ho quella mentalità che comunque è un ragazzo magari un po' debole vedendo sti video o tanti che ragionano così si è deprime e dice io non so forte e so sbagliato cioè secondo me è questo che va a stressare e per quello dovremmo essere liberi ognuno di essi bisogna essere delle brave persone uomo donna che in tempo era un po' la società che te imponeva la donna deve essere devi dare retta al marito devi essere buona l'uomo doveva essere forte pure l'uomo doveva essere forte semplicemente per un discorso legato ad esempio all'esercito banalmente cioè poi dipende di che anni parliamo però era una necessità o che andavi in miniera andavi a fare lavori pesanti adesso ovviamente con il cambiamento anche tecnologico la rivoluzione industriale quella è stata diciamo che sono cambiate molte cose sì specialmente queste e non sono un amedeo poi c'è tutta l'altra parte che è un po' la body positive diciamo l'emisfero un po' estremista della body positive che invece va ad esaltare caratteristiche che sono dannose per l'individuo sì beh parlavamo della body neutrality a posta infatti ho ascoltato quel pezzo e sono d'accordo nel senso che un conto è dire nessuno deve permettersi di giudicarti per il tuo cuscio o per le tue scelte di vita se non lo intaccano nessuno però da qui ad esaltare una condizione di obesità o addirittura a definirla non so non non insana un po' assurdo questo sì però so sempre i soliti estremismi e tra l'altro aggiungo che questa roba qui Marco se metti reaction non è sana allo stesso modo parliamoci forse Bruce Lee sì forse Brad Pitt in Fight Club sì ma però sì per carità però bodybuilder giganteschi esteroidi powerlifter per me ovviamente non sono tanto diversi da una persona obesa e infatti io rispetto anche loro certo per me top il fatto è che non penso che un bodybuilder di 480 kg di muscoli vado a dire oh ma questo è sano mi raccomando fate per GH hai visti quelli che si fanno mettere i protesi che sono tutti tipo finti muscolosi e poi hanno le braccia così che poi gli fa sotto per me poi andranno in giro pure così e si fanno tagliare le braccia e vanno in giro monkey come quelli del calcio balilla a me non me ne frega un cazzo quello è un olio sintetico che viene utilizzato diciamo anche nel bodybuilding a piccole dosi bodybuilding agonistico intendo ma soprattutto da cazzoni tipo in Brasile è come se allargasse la parte muscolare cioè crea un vuoto che viene compensato con quest'olio quindi ti viene questa sorta di bozzo che però non è un muscolo ovviamente può portare anche conseguenze gravi sono state persone che hanno dovuto amputarsi degli arti appunto va a fare il calcio balilla sintol sei bello comunque pure senza braccia per la body neutrality con la quale io mi trovo d'accordo non sapevo di trovarmi d'accordo ma è quello che ho sempre pensato di me e sicuramente anche altri la pensano come me e secondo me è una cosa anche dal punto di vista sano il mio corpo è un vascello il mio corpo è una membrana per la mia mente infatti pure quando ero più sovrappeso più inseccolito mi sono sempre mostrato non me ne è mai fregato un cazzo non ho mai provato fortunatamente sono fortunato in questo un senso di vergogno di invidia verso altri corpi proprio il del corpo non me ne è mai fregato un cazzo ed è quello che fortunatamente ho trovato descritto nella body neutrality ed è per questo che l'ho linkato e ho voluto parlarne perché mi ci rispecchio c'era anche un detto tipo corpo come fortezza qualcosa del genere che riprendeva un po' quello che dicevi tu nel senso che vabbè adesso non lo ricordo precisamente però appunto ne lo martorio ne vado in palestra e faccio cose particolari tempio tempio un tempio chi lo vede come un tempio magari è più invogliato a trattarsi bene andare in palestra io so proprio sto al centro non me ne frega un cazzo dovrei andare in palestra come tutti dovrei mangiare sano come tutti allora sentiamo l'esperto di bodybuilding vediamo un po' dite a Mr. Marra che nel BB l'olio inframuscolo infra addirittura non intra ok e sotto pelle lo usano nei casi in cui i competitor subiscono un infortunio esatto nemmeno a noi ce ne frega un cazzo del tuo corpo e questo è fondamentale lo so lo so come a me non frega un cazzo dei corpi degli altri a voi non frega un cazzo del mio e quando una persona dice ho paranoie sul mio corpo e qua e là dico sì ok ma sappi che alla gente non gliene frega un cazzo di quanto te ne frega a te è un'illusione tua bravissimi giusto lo usano nei casi in cui i competitor subiscono un infortunio e si vede un vuoto nella fascia muscolare viene usato in caso estremo allora non è così nel senso che questa cosa è vera ma viene utilizzato molto spesso anche in alcuni distretti tipo polpacci deltoidi uno che è stato molto penalizzato che è nella top 5 del mister olimpia adesso mi sfugge il nome ad esempio si vede praticamente ha i deltoidi che sono immobili quindi in determinate pose rimane bloccato perché per l'appunto è olio ok è mai stato utilizzato anche non so flex wheeler forse lo conoscete è molto famoso viene utilizzato in piccolissime dosi per colmare alcuni difetti genetici incolmabili anche con le bombe oppure proprio per il discorso che vi facevo cioè per arrivare ad un certo tipo di volume a un certo punto non riesci più nonostante alimentazione steroidi eccetera e quindi serve per fare diciamo quello step successivo ovviamente il problema è che se esageri si vede quindi fortunatamente l'hanno cominciato a penalizzare tipo questo qui si era famoso pure magari chi non si può permettere un'operazione fatta meglio che ti mettono proprio degli innesti molto spesso so che in Sud America ah di Chupan bravo erano operazioni più bellezza che andavano magari da chirurghi che facevano pagare molto meno magari ti mettono cose che poi ti fanno andare all'ospedale si vabbè ma è roba da maniscalti non da chirurghi le protesi è un'altra cosa ancora per esempio ho visto delle protesi addominali all'attrice che ha fatto all'ex attrice adesso attore che ha fatto il cambio di sesso ha delle protesi addominali vabbè quello giuno all'epoca adesso maschi Ronnie Coleman se la vive bene no ma lui non per gli steroidi ma per infortuni in realtà paradossalmente Ronnie Coleman non ha subito particolari danni dagli steroidi bensì dagli infortuni perché sta a pezzi cioè praticamente non cammina più Elliot Page adesso sì con lei che fu Ellen Page l'avevamo visto con lui che fu Ellen Page Ronnie si è disintegrato tutto e ripeto sorprendentemente non per gli steroidi ma per gli infortuni comunque mi stanno arrivando un sacco di voci della gente che ha iniziato questo trend Boiler Summer Cup Mabiloni non vi permettete mai mui a chiamare le ragazze curvi Boiler perché tutte le tipe sono belle oh Mabiloni ma Boiler ma voi siete magri difendiamo tutte le donne le tipe chiaramente perché abbiamo bisogno di loro poi dopo Mabiloni vi lamentate se non si fanno assaggiare li chiamate Boiler non vi permetto mui boi mui pure lui è body positive comunque è coerente che bello grande messaggio quasi meglio di quello di Tonio Cartoni esatto ragazzi ci vediamo alle ore 21 con Lupus si va in guerra questa sera a dopo ciao ragazzi a stasera ciao ciao che squali state arrivà è l'ho croccia lascia un uomo è il centro di questa nuova accensione un uomo spettone State pure registrando Tutti al bagno Come te fatti? Tutti al bagno